Recep Tayyip Erdogan è ufficialmente tornato a essere membro e leader del partito della giustizia e dello sviluppo del quale è uno dei fondatori e che è stato costretto ad abbandonare una volta diventato presidente della Turchia nell'agosto del 2014. Da segnalare che Erdogan era anche l'unico membro in lizza. Nel corso del congresso straordinario del partito sono stati eletti i nuovi dirigenti dell'HP. In base alla Costituzione precedente il presidente non avrebbe potuto essere membro di un partito politico ma il referendum del 16 aprile scorso ha cambiato il regolamento. Lo scorso 2 maggio Erdogan è rientrato ufficialmente nel partito dopo aver firmato una dichiarazione di attesione.